bello a tutti ragazzi qui è gioco 360 e ben ritrovati nel mio canale oggi siamo qui con un nuovo episodio di minecraft prima di iniziare ragazzi come sempre invita a lasciare subito un bel mi piace per supportare al massimo questa serie su minecraft cerchiamo come sempre di arrivare a 100 like comunque sto registrando questo episodio dopo gli altri che avete visto in questi giorni quindi ancora non ho visto i vostri commenti né su cosa ne pensate di come sto no spostati però cane eh cioè io non posso ucciderti se ti metti qua però cioè mi costringe a farti del male non vuoi che taglia questo coso? no l'ho fatto di qua comunque stavo dicendo sto registrando questo video dopo aver registrato gli altri quindi non posso non ho ancora letto i vostri commenti su cosa ne pensate di come sto continuando diciamo la serie come sto raccogliendo i ciottoli su come ho fatto il portale soprattutto quindi non ho ancora visto cosa mi avete detto sul fatto del portale comunque qui sto trovando davvero parecchie cose guardate qui c'è tantissima roba da prendere qua magari scaveremo un altro livello sotto non sarebbe male mi devo ricordare di portare questi cani via da qua perché se no mi danno fastidio comunque facciamo però mi sembra che è notte mi sembra che no voglio dire una cosa vediamo un po' però comunque è notte sì è notte allora stiamo un altro po' qua giù e poi dopo usciamo via intanto possiamo prendere ancora altre cose comunque adesso che ci penso io ma questi cani che sono scesi qua giù no io ma come li faccio salire sopra adesso perché io faccio le torri di terra qua e me ne vado però loro come fanno? boh bella domanda bella domanda spero che salgono insieme a me nella torre che faccio lo spero davvero tanto perché se no rimarrete qua per sempre oppure sarò costretto ad uccidervi e sì ormai si fa così di sopravvivenza vi ucciderò ragazzi mi dispiace quindi cercate di salire perché se no rimarrete qua per tutta quanta la vita però aspetta adesso voglio provare a salire che dite? oppure no ti aspettiamo perché qua ci distruggono se usciamo quindi aspettiamo un po' e togliamo un altro po' di roba comunque l'idea era quella di fare la struttura appunto le mura attorno al villaggio poi di fare una specie di porta diciamo un grande portone dove poter entrare nel villaggio e la notte diciamo chiudere questo portone in modo che non vengono tutti quanti i mostri diciamo poi una volta che ho fatto appunto queste mura diciamo costruirò anche il golem il golem non l'ho fatto adesso perché alcuni di voi mi hanno detto che se faccio il golem e non metto le strutture praticamente cioè le mure voglio dire il golem se ne va per fatti suoi e quindi non voglio rischiare anche perché per fare un golem di ferro davvero ci vuole un casino di ferro infatti me ne mancava solo un pezzo e tipo ne ho sprecati tantissimo e quindi non voglio rischiare di fare il golem e poi di buttare via tutti quanti i pezzi di ferro perché il golem se ne va in giro per la mappa quindi non voglio che succeda questo comunque consumiamo quest'ultimo piccone di ferro e poi dopo ce ne andiamo anche se notte non fa niente bene saldiamo anche alla pietra focaglia ragazzi quindi appena è possibile tornerò giù a prendere l'ossidiana così proviamo a prendere gli ultimi pezzi per fare il portale che non so sinceramente se funziona così mi sembra che non funziona comunque adesso quando torniamo a casa proveremo ad aprire il portale perché con la pietra focaglia che ho questa qui ho questa pietra focaglia che ho tre di pietra focaglia mi sembra che ce ne vuole una per fare l'acciarino quindi facciamo l'acciarino e vediamo se funziona se si accende, se esce questo portale se no, se vedo che comunque non si accende significa che ci manca un altro livello perché mi sembra un po' piccolo appunto me lo ricordavo un po' più grande comunque questo coso qua questa piccozza ormai la stiamo finendo quando andiamo a casa ragazzi devo assolutamente portare via questi lupi e mi faccio altri picconi e mettiamo a posto tutti quanti i ciotoli perché ne abbiamo raccolti un bel po' e quindi proviamo a piazzarli intanto sto prendendo davvero tantissimo ferro che mi è davvero molto molto utile guardate qui ce n'è tantissimo ce n'è tantissimo quindi siamo stati anche fortunati diciamo chissà magari di trovare qualche altro ah no si è rotto proprio sul più bello o anche quello di diamante però non voglio sprecarlo per cavolate così e quindi usciamo è notte quindi rischieremo la vita però non fa niente rischiamo vediamo se sale vediamo se salgono salite dai forza salite che non mi va dai e no rimarrete lì per sempre eh mi dispiace oh io che ci posso fare non posso stare qua a farmi salire porca miseria però intanto qua c'ho anche no non posso neanche correre non posso neanche correre accidenti via via di qua ti ho detto ragazzi voglio fare al più no ci sono anche gli arcieri ragazzi mi sa che io qua a casa non ci arrivo vivo eh mi sa che a casa non ci arrivo vivo devo anche mangiare qualcosa aspetta 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 buh la carota mangiamo così posso correre giusto? via 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 così facciamo un bel salto su che prendiamo la sponda e il tuffo dentro l'acqua comunque voglio fare al più presto ragazzi le mura perché guardate lì entrano tutti quanti dentro ma aspettate un attimo ma se io faccio uh il lupo non ci credo mi avete seguito come cavolo avete fatto forse sono spawnati fuori però vabbè adesso non riuscite a superare l'acqua forza forza lupo vieni entra dentro entra dentro con calma con calma qui le mucche sono qua venite no via via così via 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 il creeper no il creeper il creeper con calma allora creeper io ti odio lo sai se mi fai esplodere l'arenaria io davvero si l'arenaria l'ossidiana io davvero mi no 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 eh sono morto sono morto sono morto sono morto devo ucciderti basta ho anche la spada perché non la uso attaccate 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 no creeper no non esplodere che mi uccide il cane no ma no mi sembra che anche l'aila ha perso il cane così anche l'aila ha perso il suo cane così io ne ho persi due però di cani eccedente una volta che l'avevo trovati no ma cosa fate muovere via da qua mannaccia la miseria mannaccia che state facendo alla mia casa la mia casa non si tocca avete capito che non si tocca perché fate una brutta fine tutti quanti devo assolutamente fare le mura ragazzi ti ho salvato hai visto sei contento che ti ho salvato bene adesso veloci mettiamo a fare il ferro dove ho anche la palla di neve comunque il ferro che avevo preso eccolo qua minerale di ferro lo mettiamo a fare c'è anche un blocco di ossidiana e niente cosa dovevo fare la pietra fucaia ce l'ho quindi innanzitutto aspetta un attimo no dormiamo dopo dormiamo dopo voglio fare l'arciarino eccolo qui mi serve un blocco di ferro mi serve vediamo se ce l'ho qua 20 di ferro hai voglia hai voglia 20 di ferro facciamo l'arciarino eccolo qua l'arciarino si e così vediamo se riusciamo ad accendere ad aprire questo portale poi il resto lo mettiamo qua volendo possiamo fare anche il golem adesso ma come ho detto prima non voglio rischiare di fare il golem e dopo se ne va a spasso per la mappa e quindi voglio prima fare le mura dormiamo così si fa subito il giorno e i ciottoli che abbiamo preso prima di andare diciamo di nuovo lì sotto a prendere altri ciottoli volevo provare a piazzare questi ciottoli intanto suonano tutti i telefoni a caso allora eccoci qua volevo provare intanto mangiamo un po' di carote così torniamo tutti quanti su con la fame diciamo e ci sale anche un po' la salute e continuiamo ad appreziare i ciottoli allora io direi di fare così era rimasto qua però sarà un lavoro molto molto duro magari qui sotto nei commenti ragazzi fatemi sapere se volete che io salti questo pezzo perché non so se per voi piace vedere io che costruisco le mura però intanto qua a caso a caso esploso il cactus qua comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti se non vi annoia diciamo che io costruisca le mura qua perché è una cosa bella perché no porca miseria ho fatto male i conti ho fatto male i conti accidenti e non ho neanche il piccone allora useremo quello di diamante però l'ho messo di nuovo qua mamma mia allora useremo quello di diamante così facciamo subito veloce ragazzi anche se si tanto la vita è tipo è al massimo quindi non penso che si rompa o che si tanneggi più di tanto se rompe un po' di blocchi così vediamo un po' altri quasi anche rotto qua mi ricordo che è esploso il creeper vi ricordate ragazzi che è esploso il creeper qua mi sembra è uscito l'acqua boh non mi ricordo non mi ricordo oppure se è proprio così vabbè chi se ne frega comunque piazziamo questo maledetto queste maledette mura qua basta questi errori e cerchiamo almeno di finire il giro ragazzi cerchiamo almeno di finire il giro direi che qua posso tagliare no il creeper ma perché cioè questi qua non lo so mi perseguitano dai qua puoi esplodere guarda puoi esplodere qua boom bravo sei contento che si è esploso beh non lo so questi sono contenti quando esplodono ma contenti loro comunque qua voglio fare il taglio così perché qui c'è quella casa che se no rimane fuori quindi io starei qua e poi fare un taglio così dentro ok no non vedete che mi ha dato fastidio l'esplosione di questo guardate qua allora io taglio così e poi dovremmo farcela e tu sei l'ultima casa delle mura perfetto qua ne ho ancora a volontà di di ciottoli qui buona così il cactus che esplode cos'è ah il cactus ok quindi io direi di fare così e poi no posso anche tagliare no devo tagliare la forza di così quindi io farei così e poi farei di così quindi ok lo farei di così perfetto facciamo le mura così saliamo sopra ce la faccio a far entrare anche la casa qua sotto no quindi devo deviare un po' di così mamma mia che architetto ragazzi che architetto sotto nei commenti hashtag hashtag eh giudice60 architetto mamma mia ancora un'altra deviazione devo fare una marea di deviazioni ragazzi sto facendo una marea di deviazioni speriamo che avverrà una cosa fatta bene dopo non lo so mamma mia questi errori ma perché perché spavio sempre a mettere i blocchi ma io non lo so sarà perché vado di fretta ma comunque così adesso mi dovrei incontrare con il blocco che avevo fatto l'altra volta vi ricordate che ero partito di là no mamma quanto è lungo ragazzi ma quanto è lungo mamma mia questo è un villaggio incredibile è il villaggio più grande di tutta di tutto minecraft ci metterò anni ragazzi ci metterò anni per costruire queste mura davvero anni comunque voglio fare al più presto al più presto voglio fare almeno almeno tre livelli perché intanto qua poi dopo quei blocchi li andiamo a rompere voglio fare almeno tre livelli così da proteggere il villaggio perché io qua sto sprecando tempo a fare tutta quanta questa roba però io mentre spreco tempo a raccogliere i ciottoli comunque i mostri entrano nel villaggio e danno fastidio ai miei ai miei abitanti diciamo ormai sono miei ormai sono di caso è il mio villaggio e li proteggerò anche a costo della vita e quindi dobbiamo stare e quindi dobbiamo essere molto molto veloci a far tutto basta ma non è possibile non è possibile sbaglio sempre comunque mettiamoli qui abbiamo finito il giro direi di sì vediamo un po' se ce la facciamo io lo chiuderei così e poi qua allarghiamo e allarghiamo così io direi che abbiamo finito il giro vediamo un po' qua mettiamo qua perfetto il giro è finito le mura il villaggio è tutto quanto circondato quindi io direi che abbiamo fatto un buon lavoro per adesso nell'acqua provvederemo ragazzi magari a mettere dei blocchi sotto magari vediamo vediamo se proviamo a mettere dei blocchi adesso vediamo comunque toglieremo anche la pecora da qua dentro che non so come faccio a levare la pecora da qua dentro perché non come faccio perché se io se io le attiro col grano si attirano tutte quante le mucche quindi sarà davvero un'impresa che faremo più avanti comunque l'acciarino ce l'ho la pietra focaglia qui è acciarino e proviamo a accendere il nostro coso vediamo se funziona accendi eccolo qua funziona no assolutamente no quindi ci vuole un altro blocco per fare un altro blocco vediamo un po' aspetta eh ci vuole un'altra aspetta se no qua mi vanno nel fuoco dai muoviti ok perfetto togliamo questi blocchi e vediamo quanti ce ne servono perché io ne ho uno mi sa che ce ne servono altri due cioè direi sì altre due quindi per uno per un blocco solo non ce la faccio a fare a fare il portale però uno lo prendiamo da qua l'altro lo prendiamo da qua almeno lo lasciamo intatto così almeno sappiamo almeno ogni volta che lo vedo mi ricordo che ci vuole un blocco se no mi dimentico e via e non lo faccio più mettiamo la terra qua per salire sul blocco mi sembra che ce ne vuole un altro io ancora non ho letto i vostri commenti ragazzi quindi non lo so può darsi che sto sparando cavolate una dietro l'altra però non mi ricordo ancora non ho letto i vostri commenti perché sono ho una settimana davvero impegnatissima con la scuola e quindi non mi sto registrando un po' di video per mettermeli davanti comunque mi sembra mi sembra che così possa andare manca solo un blocco di ossigliana lì comunque io direi che per questo video è tutto ragazzi nel prossimo video andremo a prendere altri ciottoli e se riusciamo diciamo andremo a prendere anche alcuni cani diciamo che incontriamo per per la foresta diciamo perché c'è un cane io per casa lo voglio comunque avere perché è bello comunque nel prossimo episodio andremo a prendere altri ciottoli vediamo un po' di costruire almeno altri due livelli poi faremo tantissime altre cose come al solito consigliatemi qua sotto nei commenti che cosa fare noi ci vediamo con un prossimo video lasciate un like cerchiamo di arrivare a 100 like e passate anche dalla pagina facebook link in descrizione noi ci vediamo con un prossimo video bella ciao